Anche questa settimana parliamo di libri in questo appuntamento con Tra le righe. Siamo nella libreria Padre Pio, a pochi metri dal santuario e dal convento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Partiamo, come sempre, con un libro dedicato al santo di Pietrelcina. Questa volta andiamo a riproporre la biografia del santo frate del Gargano, Cireneo di tutti, firmato da padre Alessandro D'Aripa Bottoni. Padre Alessandro è stato davvero considerato uno dei più valenti storici della provincia religiosa Cappuccina. I suoi studi su Padre Pio, le sue ricerche, sono stati davvero fondamentali per il processo di beatificazione prima e di canonizzazione poi del santo di Pietrelcina e si sono tradotti in numerose pubblicazioni. La più importante di tutte è l'epistolario. Allora, andiamo a leggere un passaggio tratto da questo libro che riporta davvero quasi integralmente, se volete conoscere la vita del santo di Pietrelcina, questo è il libro che fa per voi. Pagina 283. Gli amici di Padre Pio. Un giorno Padre Pio, senza farsi accorgere, diede l'occasione ad un uomo approdato a San Giovanni Rotondo da Lidi Lontani di far qualcosa per lui, proponendogli di interessarsi di un gruppo. Cosa questa che non mi attirava in modo particolare, confessa l'ingegner Carlo Terzaghi, e lui l'uomo approdato da Lidi Lontani. Vinto dalla dolcezza di Padre Pio ed incoraggiato da una delle sue caratteristiche espressioni dialettali «Nessuno nasce imparato», l'ingegnere accetta l'incarico, ma in tante difficoltà gli fecero pensare che tutto dovesse finire nel nulla. «Padre», confidò la moglie dell'ingegnere, «siamo rimasti soli, mio marito ed io». Ed lui, di rimando, «e che non c'è il Signore tra te e tuo marito?» Ripresero il lavoro con maggior Lena e raccolti intorno a loro alcuni simpatizzanti, fondarono l'associazione Amici di Padre Pio. L'associazione, il cui statuto porta l'approvazione autografa, recita così «Ho letto, approvo e benedico», firmato Padre Pio, ed è costituita sotto la direzione di un sacerdote quale assistente ecclesiastico. È diretta e amministrata da un consiglio, composto da presidente, assistente e dai delegati responsabili per le varie forme di attività che sono spirituali, caritative ed apostoliche. Questa è la storia dei coniugi terzaghi, una storia molto bella, dalla quale poi deriva questa associazione Amici di Padre Pio, il cui statuto fu firmato l'8 febbraio del 1965, pochi anni prima dalla morte del santo frate di Pietrelcina, che ha continuato a lasciare semi importanti a San Giovanni Rotondo, ma oserei dire davvero in tutto il mondo. Quindi questo un piccolo stralcio di quello che potete leggere in questo libro, firmato da Padre Alessandro da Ripa Bottoni, San Pio da Pietrelcina, Cireneo di tutti. Caro Don Gianfranco, una risposta a tutte le domande dei catechisti. Beh, dura essere catechisti, soprattutto oggi, ma in questo libro di Don Gianfranco si possono trovare davvero delle domande interessanti, ma altrettanto interessanti risposte. Il libro è edito dalla LDC, firmato appunto da Don Gianfranco Venturi, che è sacerdote salesiano e questo libro, le sue risposte, riflette davvero il suo insegnamento accademico, ma i tanti e tanti anni di catechismo. Le pagine di questo libro sono il risultato di un dialogo tra i lettori di dossier catechista e il sacerdote salesiano. Domande che riguardano non solo domande dei catechisti, ma riflettevano molto spesso quelle dei ragazzi, anche dei bambini e delle famiglie. Come se nelle risposte fossero alla ricerca di un approfondimento della fede, delle relazioni e delle sfide educative, soprattutto oggi i catechisti si trovano a dover fare. Leggiamo un passaggio. Quando un catechista o una catechista, leggiamo nella presentazione del libro firmato da Don Gianfranco, quando un catechista o una catechista riflette sul ministero che svolge all'interno della sua comunità, oppure valuta insieme agli altri catechisti il lavoro fatto, giunge a dire, tutto sommato, essere catechista è bello. Certo, fare il catechista oggi richiede sottoporsi ad una grande fatica e di ritagliare del tempo alla vita ordinaria. Ci sono incomprensioni, vengono meno delle collaborazioni, specialmente dei genitori. In alcuni momenti ci si trova soli e si sperimenta di non essere adeguatamente preparati. È difficile comunicare con alcuni ragazzi particolarmente problematici. A volte si ha la sensazione di aver concluso ben poco o nulla. Eppure, tutto sommato, a conti fatti, essere catechista è bello perché? Perché, queste sono le risposte che dà Don Gianfranco, fa crescere nella fede. Apre il cuore a tanti mondi conosciuti. Accoglie e suscita domande, cerca risposte. Sperimenta la gioia dell'arare, del seminare e dell'attendere. Contempla e vive la gioia dello spuntare, del crescere e del maturare. Scopre di vivere una maternità e paternità spirituale e gioisce nel portarla avanti silenziosamente giorno dopo giorno. Quando si inizia a fare il catechista non ci si pensa. Man mano che si prosegue in questo servizio ci si accorge di essere chiamati a contribuire in una maniera particolare a generare nella fede, a fare in un certo modo da mamma o papà, a essere grembo in cui va formandosi la creatura del cristiano. Perché appunto dialogare è bello. Cita anche l'allora cardinale Bergoglio, oggi Papa Francesco, la verità su cui fondiamo l'esistenza deve aprirsi al dialogo, alle difficoltà che gli altri ci mostrano o che le circostanze ci pongono. Quindi davvero un libro adatto a tutti, in primis ai catechisti, ma perché no anche ai parroci, alle famiglie e poi ai ragazzi. Possono trovare qui degli spunti di riflessione molto interessanti. Ci sono delle domande a cui poi il sacerdote in questione Don Gianfranco Venturi dà delle risposte. Caro Don Gianfranco, edizioni LDC, il libro che è uno dei quattro libri che vi propongo questa settimana. Ci sono mamme e papà che faticano a lasciare andare. Considerano i loro figli sempre piccoli, quindi quando i figli danno segno di voler essere un po' indipendente, di voler lasciare il nido di casa, fanno fatica. Lei è una psicoanalista, si chiama Pamela Pace e firma per la San Paolo questo libro. Che ansia! Riflessioni per mamme e papà che faticano a lasciare andare. e perché, scrive nella presentazione la dottoressa Pace, l'ansia coinvolge tutti i genitori e che accompagna tutti i genitori, ma soprattutto le sfide che si trovano quotidianamente a dover affrontare coi loro figli. Questo libro si può considerare davvero come un compagno di viaggio. immaginatevi lungo una strada oppure in un treno o su un aereo a fare un viaggio. Questo libro è il vostro compagno perché è una raccolta di preziose riflessioni per comprendere questa presa sull'anima e viverla non come un fardello, ma come una mappa nell'impegnativo ma anche straordinario cammino di madri e padri. Allora, l'ansia e paura, si chiede l'autrice, lo fa chiedere ai lettori che poi leggeranno questo libro, è paura che legame c'è tra le due. Si tratta di due emozioni diverse perché la paura si riferisce ad uno stato di allerta rispetto ad un pericolo specifico, oggettivo. Viceversa, l'ansia riguarda situazioni soprattutto ignote, non ben specificate, cioè pericoli generici. Vi leggo la quarta di copertina. La immagino metaforicamente come la pioggia, le cui gocce possono accadere con leggerezza oppure trasformarsi in piccole bombe d'acqua e non dare a battere dighe. Tuttavia, così come le prime gocce di pioggia ci avvertono del possibile precipitare del tempo, così l'ansia suona un primo campanello che ci mette in allerta e attiva le nostre risorse e protezione di noi stessi e degli altri. Però molto interessante, forse un po' specifico, dedicato soprattutto a quei genitori che hanno i figli nell'età dell'adolescenza. Edito dalla San Paolo, firmato da Pamela Pace, che ha ansia, riflessioni per mamme e papà che faticano a lasciarla andare. E concludiamo, ormai è diventata davvero un'abitudine, con una storia tratta dal libro di Bruno Ferrero, Piccole storie per l'anima. A volte basta un raggio di sole, questo è il libro che ho scelto per voi questa settimana e c'è una storia molto carina, intitolata Il Conto. Una sera, mentre la mamma prepara la cena, il figlio undicenne si presenta in cucina con un foglio in mano. Con aria stranamento ufficiale, il bambino porse il pezzo di carta alla mamma che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era scritto. Per aver strappato le erbacce dal vialetto, 3 euro. Per aver ordinato la mia cameretta, 5 euro. Per essere andato a comprare il latte, 50 centesimi. Per aver badato alla sorellina, 3 pomeriggi, 9 euro. Per aver preso due volte ottimo a scuola, 5 euro. Per aver portato fuori l'immondizia tutte le sere, 4 euro. Totale, 26,50 euro. La mamma fissò il figlio negli occhi teneramente, la sua mente si affollò di ricordi, prese un abbiro e sul retro del foglietto scrisse, per averti portato in grembo 9 mesi, 0 euro. Per tutte le notti passate a vigliarte quando eri ammalato, 0 euro. Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste, 0 euro. Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime, 0 euro. Per tutto quello che ti ho insegnato giorno dopo giorno, euro 0. Quando ebbe terminato, sorridendo, la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il bimbo ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi, girò il foglio e sul suo conto scrisse, pagato. Poi salto al collo della mamma e la sommesse di baci. Aggiunge Bruno Ferrero, quando nei rapporti familiari e personali si cominciano a fare i conti, allora tutto è finito, l'amore è gratuito o non lo è. In un giorno caldo, aggiunge, preparai dei coni gelato e dissi ai miei quattro figli che potevano comprarli per un abbraccio. Quasi subito i ragazzi si misero in fila per fare il loro acquisto. I tre più piccoli mi diedero una veloce stretta, afferrarono il cono e corsero di nuovo fuori. Ma quando venne il turno di mio figlio adolescente, l'ultimo della fila, ricevetti due abbracci. Tieni il resto, disse con un sorriso. Davvero molto bello, credo che sia davvero un grande insegnamento questa storia di Bruno Ferrero. Tratta dal libro, a volte basta un raggio di sole, della collana Piccole storie per l'anima, edito dalla LDC. Con questa storia vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Se volete rivedere questa puntata, ma anche le altre che sono già andate in onda, vi rimando al nostro canale YouTube che vedete qui in sovraimpressione, Padre Pio TV. Grazie a tutti e buona settimana. Grazie a tutti e buona settimana.